Considuro di Tonev, ci arrivano i guantoni del portiere Polacqua, al 44esimo rimessa di Dini, si addormentano tutti, si addormenta soprattutto Sodimo, sbuca alle sue spalle Iago Falche, primo centro con la maglia giallorossa per il 25enne spagnolo, al 93esimo la scroppata di Juan Manuel Iturbe, sull'entropa al posto di Francesco Totti, manda al bar di Achite, fulmina Lealli, undicesimo centro in Serie A, finisce 2-0, vittoria di maturità della Roma, che prende così la spinta giù. Grazie 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 Molinario, il cross, il contropallo, Raffaella, acqua al volo con il tetro, paneggio immediato del Torino, a free, acqua, cala il sipario, finisce 2-2. Presenza in Serie A, attenzione adesso a Saponara, occhio che entra in aria, recupera al Bial, decimo gol in Serie A per Riccardo Saponara, segna tra l'altro il terzo gol in campionato quest'anno, segna anche contro il Napoli, perché? Anche nella sfida di aprile, vediamo qui, no, no, è stato maggio, è stato maggio che non è salito, e quindi ha permesso la fuga a Saponara con il Napoli già sotto di un gol al terzo minuto di gioco, la rete realizzata dall'oggetto del desiderio. Gabbia Dini, evita barba, ancora Gabbia Dini, per Insigne, il destro, si concchierete, si concchierete, si concchierete, non è un sogno, non è un sogno, segna Insigne, con questo segno è sempre lui a segnare Lorenzo Insigne, che mette il risultato in parità al settimo minuto di gioco di questo primo tempo, la stoccata del grande atleta, del grande attaccante, qual è lui, Lorenzo Insigne, dopo essere stato il calciatore che nella gara contro la Sampdoria aveva tirato di più in porta, adesso sull'assist di Gabbia Dini, trova l'incrocio giusto per battere Skorupski, Napoli 1, Napoli 1! Poi Croce, fermato da Valdifiori, Albiol, a servire Valdifiori, preso in controtempo, la palla che viene giocata da Mario Rui, poi Maccarone che punta maggio, sul destro, traversone, basso, attenzione, Saponara mette in mezzo! Prendiamo sempre gol, nelle maniere più insolite e assurde, prendiamo sempre gol, stavolta è stato Pucciarelli, quadrato adesso, Marco Giampaolo resta seduto in panchina, e il sesto gol in Serie A per Manuel Pucciarelli, il primo in questo campionato. Il gol del pareggio è stato segnato dal nostro Aladin, che fa esultare tutta la tifoseria azzurra. Grande inserimento, grande inserimento del nostro Aladin, che riesce così a pareggiare il conto su questo assist, ancora una volta di Gabbiadini. Aladin che controlla il pallone e poi riesce a battere Skorupski per il 2-2. Punteggio che viene a maturare al quinto minuto di gioco di questo secondo tempo. Quaisson ha finta su Loll, è passato Quaisson con una grande giocata, lato corto dell'aria, Quaisson la mette in mezzo, c'è una deviazione! E arriva Illyamark, che gira con il sinistro e trova il primo gol in Serie A! Passa Mbakogu in area di rigore, ancora Mbakogu! La deviazione autogol, il pareggio delle Carpi! 69 secondi dal suo ingresso in campo, l'attaccante regala il vantaggio al Carpi. Matos va a cercare Barriello! Entrarà subito il gol! Il cross di Lazare interessante tra i koschi, Giorgia vince! Ci mette la testa e fa 2-2! Il sogno della prima vittoria in Serie A per gli Emiliani svanisce a due minuti dal novantesimo. Atalanta, Maxi Morales, occhio alla sovrapposizione, il cross è buono, palla in mezzo, si coordina per la rovesciata e la mette all'angolino! Un gol, capolavoro! Esplode Maurizio Piniglia! Calcio di punizione battuto, attenzione alla conclusione da fuori! E palla che va all'angolino, Magnanelli! Niente da fare per il portiere Bergamasco, quartiello! Peluso, occhio a questo brutto pallone regalato, parte il tiro ai Piniglia! Il tocco inutile del portiere Consigli! Siamo 2-1, ancora Atalanta, ancora Maurizio Piniglia al trentatresimo, 2-1, grave errore della difesa! Floro, punta Bellini, ancora Floro, Flores, vuole tirare in porta? Ci prova, va Floro col destro, all'è te! Uno spledi da golla, è 2-2! Si accentra Keita con il destro, Carnezis riesce a parare, e poi Coné che regala il pallone a Matri! Doppietta all'esordio per Alessandro Matri! Sbaglia Coné, non sbaglia Matri! Pallone buono per Guarin, è scattato i carti, Guarin accelera, palla sul sinistro, Guarin parte il tiro! Rete, Guarin, grego all'Inter in vantaggio! Muriel, dentro per Eder, Eder, Eder! Palla rete di Eder, il quinto gol in campionato, segna ancora Eder, la Samp è avanti alla mezz'ora del secondo tempo! Correa, buono il suo numero, Soriano, zona tiro per lui, Soriano! E' un super gol di Roberto Soriano, e mette in sigilia la partita, 2-0!